Faccio direttamente... Ok, penultima riga come stai? Il front seat flip è un trick formato da un fronteigolli e da un kickflip. Per essere imparato richiede abbastanza confidenza con i seki, in quanto il vostro corpo, oltre ad atterrare i seki, deve agganciare la tavola dopo che abbia slippato. La posizione dei piedi è simile a quella per il kickflip, anche se il piede posteriore va posizionato leggermente più in fuori, così da favorire sia lo scoop sia il flip della tavola. Il movimento dei piedi deve essere uguale a quello del fronteigolli, con l'unica variante di aggiungere una scalciata un po' più potente rispetto a quello usato per il kickflip, con i piedi davanti. Volendo, potete scopare più internamente, in modo tale da aiutare la scalciata del piede anteriore. Fatto ciò, dovete saltare molto in alto e ruotare moltissimo le spalle. E quando la rotazione dello skate sarà terminata, lo riprenderete con entrambi i piedi e atterrerete, cercando di bilanciare il peso sul centro della tavola. Le prime volte il peso tenderà ad essere troppo avanti o addirittura oltre allo skate, ma continuando ad esercitarsi vedrete che riuscirete a chiudere in maniera sempre più pulita. Il movimento dei piedi deve essere uguale a chiudere 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 a chiudere. Grazie a tutti!